L'indifferenza davanti ai crimini che quotidianamente hai di fronte e di cui i primi artefici sono le organizzazioni mafiose non fa altro che renderti complice dell'incontrastata diffusione delle loro attività illegali. I lavori pubblici rappresentano per queste organizzazioni opportunità ideali per il guadagno sporco. Gli appalti che ottengono attraverso corruzioni e offerte convenienti si trasformano in lavori scadenti e stessi non terminati. Oggi il 70% dei giovani tra i 18 e i 24 anni non risulta essere impegnata nella lettura di giornali di informazione. In più, la libertà distante è evitata dalle minacce della criminalità organizzata che fanno affondare l'Italia al 73 posto nella classifica in l'ambito delle libero comunità di espressione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Molti ragazzi lo stanno facendo, cosa aspetti?